Siamo qui con Simone Binotto, tecnico dell'Union QDP. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Allora, è una sconfitta l'ultima nel recupero della prima di ritorno, una sconfitta per 3-1. Il risultato era già acquisito, peccato mister. Sì, peccato perché ci credevamo, almeno io ci credevo e volevo chiudere nel migliore dei modi, anche la squadra sicuramente. Dopo un periodo in cui le partite per noi contavano tanto, probabilmente a livello di testa abbiamo un po' mollato e oggi si è visto. Comunque un bilancio positivo della stagione, un gran girone di ritorno. Sì, assolutamente, un gran girone di ritorno. Secondo me abbiamo fatto bene anche l'andata. Peccato perché le 6-7 partite dove siamo stati un po' sfortunati, un po' per colpa nostra, non abbiamo fatto punti e ci siamo messi in difficoltà. Però poi il giorno di ritorno abbiamo fatto bene. Una parola su Antonio Martina che oggi ha chiuso la sua carriera. Sì, un gran giocatore, veramente sia dentro che in campo che negli spogliatoi. Un punto di riferimento per tutti e io spero rimanga con noi, anche se non come giocatore, in altre vesti. Grazie mister, in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie mille, ci vediamo.